Agnese, facciate. Siamo qui in casa di San Pedro. Finalmente, finalmente, dopo quante ore, Antonio e Mario dalla finestra. Nonna, sono arrivati, sono arrivati. Io corro di là e sono arrivati. Dalle quattro ore, sono le sei. Due ore. Due ore di attesa dalla finestra. Non hanno voluto assaggiare niente. No, no, quando arrivo non mangiamo, quando arrivo non mangiamo. Welcome to my house. I'm so happy. I've never been happy like today. Ok, grazie. Anche noi è la stessa cosa. Molto felici. Gia gia, grazie.